ciao oggi voglio proporvi un allenamento da fare in cucina intorno praticamente neanche intorno al tavolo da un lato del tavolo cioè basta avere veramente due metri quadri e quindi ce l'abbiamo tutti bisogna solo fare attenzione al tavolo a non fargli dare il giro per l'allenamento di oggi ci serve una sedia due tavolo e tre due bottiglie vi faccio vedere brevemente il circuito allora primo esercizio piegamenti sulle ginocchia quindi mi appoggio sulle ginocchia e vado a fare secondo esercizio il rematore prendo bene il tavolo di zerario sotto gambe piegate raccolte e provate su più che possa questo è essenziale di scivolare bene sotto il tavolo perché se mi metto indietro rischia di dare il giro quindi dare proprio bene sotto sotto il tavolo con le spalle perpendicolari al bordo poi andiamo a fare un po' di squat quindi in avanti scendo e salgo un po' di piegamenti mani in avanti pieno e distendo gambe distese con la versione più complessa di acqua possiamo fare i bicipiti spalle questo un po' di affronti anche quindi questo poi possiamo andare a fare un po' di addominale addominale piccoli un po' di addominale